Buon pomeriggio lettori di Vivi Casagiove, siamo in compagnia di Nello Martucci, capobanda artistico del gran concerto bandistico Città di Casagiove. Nello, puoi esprimere una tua considerazione sull'evento musicale che si era presso la casemma dei Martini di Casagiove? Buonasera a tutti, per prima cosa io devo dire che sono fiero che il generale Elia Rubino ci ha dato la possibilità di essere qui e di formare questa fanfara per l'associazione Arma Aeronautica di Casetta. Sono fiero due volte, essendo anche io un militare dell'Aeronautica, posso dare all'Arma Azzurra, oltre la mia professionalità lavorativa, anche quella musicale. Quindi sono fiero e ringrazio tantissimo il generale per averci dato questa possibilità. Bene, Nello, chi vuoi ringraziare in modo particolare per la riuscita di questo evento? Come già detto il generale Elia Rubino, e due parole le voglio spendere per il nostro presidente dell'associazione musicale di Casagiove, che in questo periodo sta attraversando un momento poco bello. Vi auguro una presta guarigione, perché abbiamo ancora tante battaglie da affrontare insieme. Nello, puoi fare un saluto ai lettori di Vivi Casagiove? Vi saluto tutti da Casagiovesi, viva Casagiove e viva Vivi Casagiove!